Un salaro che mi ha scritto di sa cosa è stato, guarda come un buco, non so la rete, prenda un po' la roba e fece. Oh, mi scappola. Mi cerca a mangiare il caldare, la bontone, a farti guardare, a farti visitare. Hai una faccia che mi ha scritto, guarda come sei ritorno, di soltanto che finisce la roba. Ma guardo nel pieno, ho un sorriso strano. E tu ne la vedo, ma forse la gioca è davvero, 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 davvero. Ma poi c'è la festa nel paese, ma non pari in cibo. Oh, mi ha detto che mi ha detto a mangiare il caldare, e questo è un risultato mio. Oh, ma pure nelle noci, cioè, perché non è stanco, e questo è solo di strada. E' bella giornata, ma in pala la gente si guarda sconvolta. Ma mai ci sono abituato, sono vaccinato, sono proprio vaso, no? In mezzo a fare addirittura, c'è il progetto. L'ho dato che l'ho dato, come faccio. L'ho detto a sacco di soli spasso, è tutto a di campane, non è neanche male. Io ti voglio essere certi in prezzo a rinforare, non va bene in cibo, ma di smaggiare. Spirizzo salzato, lo voglio, e non è ancora spesso, non è ancora spesso. Ed è completamente spazzato, e non riesce a tornare in un po' Oh, ma è una decola di cibo. Oh, è la gente. 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 La sera che arriva, non è mai diversa, dal nostro e la prima. La gente che apoga nell'unica sala. C'è un po' con la gente che si accade, Sopra questa merda, sopra questa merda. E non ricordo se non avrei, mi lo voglio vedere ancora. E se ne avevo ancora detto in tutte le cose. Sopra questa merda, Sopra questa merda. Sopra questa merda. Sopra supporta. ma soprattutto sono io a lasciare il microfono e lo scelgo al nostro batterista mister Giacinto che è il quarto il presidente ha qualcosa da dirci perché Giacinto è il presidente forse voi non lo sapete ma noi siamo un gruppo cosiddale della trattica abbiamo il nostro rappresentante Giacinto non viene dalla domanda non viene dall'Africa ma è conosciuto come Giacinto Giacinto è il nostro rappresentante Giacinto è il nostro rappresentante attenzione si prepara un quarantennio meglio di trentissimo a tutti i giorni mancatevi a cacare 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.